Per quanto riguarda invece il momento attuale, ecco, lo potremmo vedere in opposizione a quello 50 anni fa, perché 50 anni fa nasceva, no, era nata, quando esce Apocalittici Integrati, era nata da dieci anni la televisione. Come poi avrebbe ampiamente notato e teorizzato un linguista come Tullio del Mauro, la televisione ha insegnato la lingua agli italiani. Prima di allora solo un'elite parlava italiano, il resto era dialetto, eccetera. Oppure pensate a quello che ha fatto il maestro Manzi, eccetera. E allora si potrebbe dire che a quei tempi, prendiamo la televisione come un modello massimo di mezzo di massa, come oggi sarebbe internet, faceva bene ai poveri e faceva male ai ricchi. Poveri e ricchi non nel senso del censo, ma nel senso della cultura, dell'informazione. Ecco, qui noi siamo tutti ricchi, ecco, anche chi non ha un soldo in tasca. E allora la televisione faceva bene ai poveri che finalmente avevano accesso alla lingua. O appunto, quando dico che facevano pirandello alle nove di sera, pensate quanta gente, era una rivelazione. O sceneggiavano i promessi sposi, eccetera. E faceva male ai ricchi, quali stando troppo in televisione non andavano più ai concerti o cose del genere. Internet è esattamente l'opposto. Fa male ai poveri e fa bene ai ricchi. Fa bene ai ricchi, perché noi che siamo ricchi sappiamo navigare, selezionare l'informazione, prendere quello che serve e quello che non serve. I poveri, che vanno da un ragazzino di 13 anni a un grillino di 30, invece non sono oppressi dall'abbondanza indiscriminata di informazioni. E io avevo una vecchia battuta che non c'era nessuna differenza tra il New York Times della Domenica e la Pravda. La Pravda celava le notizie. Il New York Times della Domenica aveva, c'è ancora 600 pagine circa, tra supplementi, eccetera. Se uno, anche se uno, il rito della mattina, la Domenica, sedersi su una panchina a New York e dice real estate, niente, cestino, sport, anche facendo così, una settimana non è sufficiente per leggerlo tutto. Quindi, anche se dà delle notizie importanti, non lo si saprà mai. Quindi, come la Pravda. Ecco, un po' la storia di internet è questa. L'abbondanza dell'informazione rende l'informazione nulla. Anche perché nel New York Times della Domenica uno sa selezionare ah, beh, questo è il supplemento letterario, lo tengo, questa è la parte politica, eccetera, questo invece è moda, mentre su internet non c'è questa distinzione.